It's time of teamwork ragazzi sono Tricotricco e bentornati al mio canale e oggi siamo qui per parlare di nuovo di Black Ops 6 per vedere quelle cosina un po' più tecniche che sono state dette al Code Next quindi senza troppi giri di parole iniziamo subito ovviamente non andremo a vedere tutto quanto perché ci sono miliardi di video che fanno già il recap generale ma andiamo a vedere soltanto le cose un po' più tecniche che effettivamente potrebbero andare a modificare il gameplay e tra l'altro piccola parentesi se volete abbiamo allestito sul server Discord tutte le stanze per Black Ops 6 quindi se volete giocare la beta domani o quando uscirà questo video appena aprirà la beta chiusa mi raccomando fate un salto su Discord se non avete preordinato il gioco potete seguire la live qua da YouTube o dal mio canale Twitch quindi se volete dei pareri a caldo senza troppi filtri mi raccomando passate da lì se invece volete giocare il titolo subito senza aver preordinato il gioco se avete una scheda video Nvidia potete andare nell'app Nvidia nella sezione riscatta codici dovrebbe esserci un mese di Game Pass quindi mi raccomando fatelo che così ci facciamo una partita insieme e non stiamo a dare altri soldi prima che esca il gioco comunque tornando a quello che dicevamo prima cos'è successo di bello in questo Code Next? allora prima di tutto mi fa ridere che molti giocatori non hanno sfruttato il nuovo Omni Movement mi sembrava di vedere delle partite giocate su MV3 non ho visto tante scivolate laterali all'indietro eccetera quindi è un peccato molti usavano il tuffo si tuffavano ovunque però quello non è il completo Omni Movement infatti questo mi fa pensare due cose uno che magari l'Omni Movement non è così utile il che mi darebbe abbastanza fastidio dall'altro lato della medaglia la parte un po' più felice di questa medaglia mi fa pensare invece che sia un sistema di movimento un po' più complicato da utilizzare il che sarebbe ottimo perché introdurrebbe un po' di skill gap tanto necessario a questo nuovo Code io spero tanto sia la seconda rispetto che la prima perché altrimenti significa che questo Omni Movement è soltanto un altro gimmick quindi un'altra roba aggiunta tanto per però sinceramente per come ho visto diversi leak essere giocati mi sembra che sia un po' di più la seconda opzione parlando sempre del Movement hanno introdotto il terzo slot per le armi corpo a corpo che avranno tag sprint infinito questo è un'ottima roba a livello di pacing perché se noi vogliamo pushare un obiettivo vogliamo andare più veloce e uscire da un fight posso immaginare che il tag sprint infinito del melee se non ci sono delle tempistiche troppo elevate quando si tira fuori quest'arma corpo a corpo è un'ottima cosa che comunque potrebbe cambiare effettivamente come si svolgono i fight e oltre a questo potrebbe accompagnare bene l'Omni Movement secondo me questo gioco potrebbe essere come vi avevo già detto diverse volte in live un titolo da giocare con lo scatto automatico non con lo scatto tattico automatico attenzione ma con lo scatto automatico nel senso quando io premo un qualsiasi tasto quando io indico con l'analogico in qualsiasi direzione il mio personaggio corre direttamente per poi premere soltanto una volta con shift e fare lo scatto tattico questo perché da quello che vedo mi sembra che facendo questa cosa si può ritornare a dei pacing più simili a quelli che aveva Cold War senza lo scatto tattico quindi uno strafing veloce a destra e a sinistra perché ne so prendere informazioni o altro per poi fightare in modo molto più veloce e effettivamente utilizzare lo scatto tattico automatico come se fosse una corsa normale poi se non avete capito molto bene non vi preoccupate che quando uscirà il gioco andremo a vedere questo stile di gameplay un po' più nello specifico perché non avendo sotto il gioco non posso mostrarvi cosa intendo nello specifico tornando ai fight molto probabilmente come vi avevo già detto non c'è l'idol sway dell'arma quindi è possibile che noi da mouse e tastiera ritorniamo a un sistema di mira un pochino più intuitivo questa è la clip che vi lascio sotto rallentata come vedete non è come se voi andate a fare la stessa cosa adesso su Mv3 il mirino si sposta tutto questa è un'ottima cosa spero che questa roba rimanga anche alla release perché sennò c'è veramente da piangere oltre a questo nei fight si parla di TTK più basso come vi avevo detto prima in un altro video si parla di 100 HP questo non è importante perché moltissime persone dicono cavolo no io voglio 150 di vita 100 90 200 eccetera eccetera ma la gente non si rende conto del fatto che il numero che avete come vita massima non significa niente se poi le armi fanno tanto danno quindi capite bene che il balancing è più una questione di danno per colpo più che vita massima ritornando a prima sì abbiamo 100 di vita ma si muore in 5 colpi questo hanno detto che l'han fatto per una questione di modalmente omnimovement quindi sarà un pochino più veloce di Cold War e sinceramente questa roba lascia il tempo che trova perché se poi alla season 1 o season 2 mi metti l'arma che mi uccide in 4 colpi come hanno sempre fatto in ogni season post lancio capite che ha poco senso avere le armi ribilanciate oltre a questo ho notato che esiste alto calibro e questo abbassa il TTK infatti una roba che ho sentito dire è proprio il fatto che sì 5 colpi abbiamo un moltiplicatore in testa molto basso e oltre a questo alto calibro dà soltanto un bonus un pochino più alto quindi figo rivedere alto calibro spero non sia a livello di com'era Black Ops 3 non so se vi ricordate ma Black Ops 3 Man of War più alto calibro all'epoca era una roba devastante o magari anche lo sciva infatti per chi giocava competitiva all'epoca alto calibro era da bannare assolutamente prima di entrare nel match comunque tornando a un code peggiore di Black Ops 3 e parlando sempre dei fight e delle classi hanno confermato che gli accessori sono stati rivisti ce ne sono di meno sono semplificati e hanno molti meno contro nel senso che tutti gli accessori hanno molti pro a favore per migliorare l'arma velocità rate di fuoco stabilità e tutto il resto e gli accessori che avranno un grosso bonus avranno sì un malus ma quelli che avranno piccoli bonus generalmente avranno soltanto quello a me questa roba non so quanto può piacere perché il bello di avere degli accessori che hanno bonus e malus è il fatto che si aggiunge del carattere al gioco e della profondità avere tutti gli accessori con bonus e bassa succede come Delta Force che è un gioco piattissimo dove si può mettere su tantissima roba e non ha più senso veramente stare lì a pensare delle build delle armi però d'altro canto gli accessori semplificati sono anche un passo in avanti rispetto alle build attuali le build attuali si usa sempre DR6 freno in bocca L4R stupitate varie e la build non cambia il che è brutto è più figo avere varietà poi ovviamente il meta sarà per forza esistente una volta che uscirà Black Ops 6 però comunque sembra essere un qualcosa di interessante da notare questa parte di accessori alla release vedremo come sarà adesso passiamo alle robe meno importanti tra cui Ranked che arriva in season 1 e oltre a questo ci saranno hanno fatto vedere ovviamente tutte le mappe le varie mimetiche che sono molto belle mi piace infatti molto la Dark Matter per chi è un po' più nerd fate caso al fatto che hanno finalmente migliorato il sistema di materiali con cui applicano le mimetiche alle armi infatti se ci fate caso tutte le mimetiche che magari anche su Cold War erano belle su questo engine di Mv19 Mv2 Mv3 sono gestiti materiali in modo molto peggiore le armi sembrano molto piatte e le animazioni delle mimetiche animate sembrano di scarsa qualità con la Dark Matter sembra sistemarsi questa roba perché sembra molto tridimensionale la mimetica e soprattutto gli dà molta profondità al fatto che ci sia del vetro sopra quegli effetti di spazio materia oscura che c'è dentro che era una roba a cui eravamo abituati su Black Ops 3 e Black Ops 4 ma che poi come vi avevo detto col nuovo engine è stato completamente buttato nel cestino quindi molto bello a livello tecnico e ultima cosa prima di dimenticarmi hanno aggiornato e migliorato il sistema di prestigio facendosi che ogni singolo prestigio prima di tutto sia dedicato a un titolo di Black Ops il che ce ne sono 6 gli altri 4 prestigi non so come li popoleranno ovviamente 6 non contando Black Ops 6 e contando World at War visto che il primo prestigio è stato rivelato essere dedicato a World at War oltre a questo ci saranno dei blueprint degli altri bonus per ogni singolo prestigio quindi ragazzi questo è tutto a voi come è sembrato questo Black Ops 6 tanto a breve giocheremo la beta quindi se volete come al solito lasciate un bel like un commento condividete ma ancora più importante fatemi sapere cosa ne pensate voi quindi niente noi ragazzi ci becchiamo al prossimo video bella rega grazie a tutti